Ciao a tutti! Benvenuti al nostro quiz di oggi. Siete pronti a mettere alla prova le vostre conoscenze sul mondo del gaming con una domanda interessante e un po' più difficile? Iniziamo! Quale gioco ha introdotto per la prima volta il concetto di Ragdoll Physics nei personaggi, rendendo le cadute e gli impatti più realistici? 1. Max Payne Dew Half-Life Dew 3. Unreal Tournament E la risposta corretta è Unreal Tournament Avete risposto correttamente? Unreal Tournament ha introdotto per la prima volta la fisica Ragdoll nei personaggi, cambiando il modo in cui i corpi reagiscono agli impatti e alle cadute, rendendo il tutto molto più realistico. Curiosità La fisica Ragdoll è stata successivamente migliorata e utilizzata in molti altri giochi, come Max Payne e Half-Life Dew, diventando una componente essenziale nei giochi moderni per creare un'esperienza di gioco più immersiva e realistica. Grazie per aver partecipato al nostro quiz di oggi, scrivete nei commenti se avete risposto correttamente e se conoscevate questa curiosità sulla fisica Ragdoll nei videogiochi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi quiz. Alla prossima!